Ehi ragazzi, come va? Io sono Feri Miki E io sono Steph e questo è Gigi Crema Spor E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Feita Aurelio, Channel Miki, Fabio, Denise, Francesca e Daniela Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E siamo tornati su Spor dopo tantissimo tempo Esattamente, passate un bel po' di tempo Ma finalmente siamo tornati da Stere Niki Siamo nella fase tribù appena iniziata Ed era appena nato il villaggio vicino Fammi vedere un pochettino Dove sono? Ecco, sono questi qua Eccoli, eccoli Che brutti che siete Allora io non ho capito Come se noi fossimo belli Sì, più belli di loro di sicuro, guardali Non ho capito se sono alleati o meno Però se non sono alleati lo diventeranno Allora, secondo me invece è tutto resettato Nel senso che non abbiamo ancora né alleati né nemici Quindi dovremmo o farci amicizia o sterminare Potrebbe essere Quindi ci faremo amicizia Allora, ci hanno scritto una cosa interessante Ok Ovvero che adesso che siamo nella fase tribù Gli animali li possiamo addomesticare No Sì No Sì Ma mi puoi dire una cosa del genere Io non so bene come si fa Quindi non ti garantisco che funzioni Ciao Lino Ciao Lino Ciao È tutto a posto? Credo di sì Credo di sì Sta funzionando? Cosa stanno facendo? In questo momento cosa stanno facendo? Non sto capendo Neanche io Allora, aspetta un attimo Sì Facciamo un attimo in un recap della situazione Perché non sto capendo Ok Ci hanno detto che possiamo addomesticare qualsiasi cosa Io pensavo solo agli animali che succede È partita una super rizzo e li ha stesi tutti con due colpi Non si sa come Serenichi, calmati un secondo Fenomenale Calmati un secondo Sta anche rubando il cibo No, no, no Ce lo stavano rubando loro E lui li ha picchiati a bastonate È stato bellissimo Ok E dicevo, praticamente Se la domestichiamo Rimane lì nel recinto Come se l'avessimo catturata Insomma, diventa il nostro animale È tuo domestico Teoricamente Adomesticato Dovrebbe fare le uova E quindi cosa succede se ci fa le uova? Che ci fa il cibo come appunto con la frutta Solo che invece che andare a prendere la frutta Abbiamo le uova da prendere direttamente Ma è carinissima Lo so È carinissima Infatti dovremmo vedere se farà delle uova Su, facci una uova Facci un momento No, allora lasciamolo qui in pace Vediamo che succede Vediamo che succede Ok Comunque ci sono quelli che ce l'hanno con noi Sono quelli che abbiamo sterminato Verro? Questi? Sì, mi sa che hai sterminato due di loro Perché ci volevano rubare il cibo E vabbè, calvo di loro E infatti guarda lì con Cina Guarda lì con Cina Sono arrabbiatissimi Io allora provo ad andare a farci pace Io faccio una tempesta di infrezza Bravo, bravo, bravo Cosa sta succedendo? Continuo a fare la danza della pioggia Ma smettile, picchiali Ok, allora dobbiamo sterminare questi maledetti Perché non hanno apprezzato la nostra bellissima danza E dobbiamo sterminarli tutti Mi dispiace che voli loro È colpa loro E noi ci abbiamo provato Bisogna metterlo Ma io te l'ho detto che ormai erano da sterminare Ne avevi fatto fuori due Cosa fai? Non li stermini tutti? Scusa, non ti perdonano ormai gli stereni Che li avevo fatti fuori Questo è perché Stereniki ascolta a me Sotto sotto è andato da solo Senza che tu lo guardassi gli esterminati Abbiamo un bel po' di frutta Io ti direi che possiamo far nascere qualche piccolo Stereniki Sì, assolutamente Ne mettiamo uno Allarghiamo la nostra tribù Esatto E poi iniziamo a costruire un po' Allora, i vestiti sinceramente io non li voglio mettere Perché noi abbiamo fatto tutto il persangio con le scaglie, eccetera Se lo vestiamo Allora, dipende Dipende Se c'è qualche tipo di abbegliamento che è inerente E comunque ci sta bene Io direi di metterlo Facciamo che lo controlliamo Io direi di controllarlo dopo Per ora costruiamo un po' di villaggio E dopo lo guardiamo Ok Ok Allora, possiamo fare le lance da pesca I bastoni da raccolta E le aste guaritrici Ok Poi possiamo fare i corni di legno Oddio, un sacco di cose E i digeridù Digeridù Non lo so Qualcosa del genere Poi asce di pietra e lance Eppure le... Ah no Le torce Aspetta Voglio le torce Allora, queste sono tutte le opzioni che esistono E queste sono quelle che noi possiamo fare Quindi torce Maracas 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 Siamo le maracas così E loro diventano tutti felici e contenti No E questo cos'è? Vi prego ragazzi Stai scherzando? Che partita La musica spagnola con questi che suonano le maracas serissimi Cioè guardali, sono serissimi così e suonano le maracas Io non ci credo Bellissimo Bellissimo Non potevo chiedere di meglio Ammetto che però è divertente Ammetto che è divertente Vedi che farli ballerini e canterini Ti sembra che mi partano ste musichette Abbiamo tutti con le maracas Andiamo a provare a fare pace e amore con l'ultima Oh che bellini questi Che bellini Bellini Guardali Quindi in casa ci torniamo Dicevo, andiamo a fare pace e amore con l'altro villaggio che si è formato Con l'altro attributo Sto stai dicendo l'ultima ma non è l'ultima È una delle prime La prima, non è la prima credo È detto l'ultima Sì, è la prima che si è formata dopo di noi Quindi è giusto così Cos'hanno? Cosa sono questi così? Contadini Stanno facendo i contadini Probabilmente per raccogliere E poi l'aereofonista Bellissimo Ma questa c'è una band musicale questi qua Sono bellissimi, bellissimi Stanno tutti shakerando qualcosa Non si sa bene perché Allora, quindi noi ci mettiamo così Tasto destro Ok, vedi È una gara di chi suona meglio Sì, sì, assolutamente Loro mi sembrano ben preparati Guarda come suoniamo le maracas Con quell'aspetto non si può vedere Sti renichi che sono alle maracas Che te lo dico Con quell'aspetto così cattivo Però sta piacendo Sta piacendo alla tribù Guardali, guardali, guardali Sono quasi i nostri amici Sono felici Sono davvero felici Sì È diventata tua amica Stanno arrivando degli animali selvatici Ma ci hanno dato dieci Ma l'hai visto che ci hanno dato dieci? No, non hai capito Che succede? Lo so che ci hanno dato dieci Però stanno arrivando degli animali selvatici Ma questi? A rubare il cibo Ma questi cosettini? Ma chiama gli animali selvatici queste cose? Ma sono mascherini Ah no, sti renichi alfa What? Che succede? Ci hanno rubato il nome Sai cos'è probabilmente? Sì Guarda, scopri qualcosa che hai creato in un'altra partita Deja vu Quindi Ti stavo dicendo Senti li abbiamo creati? Ti stavo dicendo Probabilmente l'abbiamo creato in un altro momento Ma quando? Io non ricordo di aver creato una cosa del genere Neanche io Sinceramente neanche io Soprattutto col nome di serenichi Non ricordo proprio Ma va bene L'abbiamo sterminato Come se nulla fosse successo Esatto Adesso siamo amici per forza Adesso siamo amici per la pelle E credo Guarda i fiorellini Guarda i fiorellini Li stanno lanciando all'aria dalla felicità Dalla felicità Guarda Abbiamo sbloccato due cose Le loro capanne, giusto? Le loro costruzioni Vediamo Allora qua adesso si dovrebbe formare un totem Che indica Che con loro siamo diventati amici Ok Quindi amici della storia Ti sei le atto con la tribù del villaggio rosa Per celebrare l'altra tribù Ha condiviso con la tua Un pezzo di totem E nuovi strumenti e abiti Che sono stati aggiunti al pianificatore della tribù Bella questa cosa Vedi? Se l'amicizia significa rubare Quello che noi abbiamo E appropriarci delle loro capanne Mi va bene Così mi va bene Non capisci nulla Sì gli abbiamo rubato i vestiti È uno scambio culturale questo Non è rubare È un rubare tutto quello che hanno loro Per diventare i più forzi dell'isola Giusto ragazzi? Così per forza Si è ingrandito Il prestigio della tua tribù sta crescendo Ora puoi esibire una capanna più grande E la tua tribù può contenere un massimo di nove membri Vedi vedi Bella l'amicizia così Che brutta persona che sei Te lo dico Grazie Guarda 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 Questo esterino ci sta provando E di nuovo sterinichi alfa Lo prendo come un complimento comunque No non lo era Si sono formate tantissime altre attribù Ma l'ho visto che diventa invisibile? Stai scherzando? È diventato invisibile Si è nascosto? Lo vedi che è invisibile? Però l'abbiamo trovato lo stesso Non ci puoi rubare il cibo Guardalo guardalo Ci ha difeso l'anno stato su Bellissimo Bellissimo Il nostro animale da compagnia L'ha sterminato Poi se ne è tornato nel suo posto Esatto È stato cattivissimo Bravo Bravo Mi piace Mi piace Allora mettetevi tutti a raccogliere cibo ragazzi Dobbiamo fare un sacco di cibo Tu rimani qua Fermo a difendere E ti volevo far vedere Si è formato Villaggio Azzurro Che belli questi Che credo che hanno No quello è un altro titano Sì però i titani adesso credo che li possiamo riuscire a Addestrare Non so se è facibile Ciupo epico Fra un po' ci proviamo Per addestrare un titano Sì Fra un po' ci proviamo Ma dici che ci possiamo Ce la possiamo fare Non lo so Poi ci sono i verdi Sono troppo belli Ma sono tutti troppo belli Ma sono bellissimi Sono tutti più belli di noi Sono nemici per ora Vedi Sono arrabbiatissimi Sarà difficile riuscire a farci la pace Dovremmo Sterminarli No Donarli del cibo Sterminarli Se tu gli fai una donazione di cibo Riesci a farli passare Dare fuoco alle loro capanne L'astio Abbiamo le maracas Abbiamo i digeritù E abbiamo le torce per difenderci Bellissimo Bellissimo Sta diventando davvero bello Questo villaggio Esatto Allora io direi che è anche arrivato Il momento di guardare i vestiti Cioè le altre tribù Sono troppo più belle Con quell'armatura Vorrei mettere qualcosa anch'io Che ne dici? Ok Sì Mi sta bene Mi sta bene Abbiamo già messo delle capanne Quindi adesso guardiamo i vestiti Vediamo almeno cosa c'è Perché? Se era brutto È diventato tre volte peggio Soprattutto con questi baffi Siamo arrivati proprio Io lo adoro Ti dico la verità Io lo adoro Cioè tanto se non riusciamo a fare qualcosa di bello Almeno peggioriamolo nella bruttezza No poverino Adesso notate che t'assomiglia Il cappello come il tuo Il baffetti come te è uguale Siete diventati uguali Cioè questo è un insulto vero e proprio Non vorrei dire Ma mi stai insultando malamente Il cappellino come te adesso Fammelo vedere Scusati Girati Ti ci manca la gonnellina Sei a posta L'hai voluta tu quella gonnellina terribile per socializzare Adesso te la metti anche nella realtà guarda Non mi sfidare Non mi sfidare che poi lo faccio e lo sai bene Che succede? Un'altra tribù sta attaccando Predoni avvistati Dove? Ma noi stanno attaccando Sì 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 A noi? Le torce ragazzi Tutti con le torce veloci Stanno arrivando Sono i verdi Sono i verdi Ci stanno Vedi Altro che pace amore Se avessimo avuto il gonnellino da combattimento Ora saremo più forti Io te lo dico Perché non ti sei messo il gonnellino da combattimento Io non capisco perché Non stanno prendendo le torce Veloci Probabilmente perché hanno già le maracas No 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 Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Siamo pronti alla guerra Siamo pronti alla guerra Attaccate Che bello Ma che cosa che bello Guarda il nostro animale Guarda il nostro animale È tutto domestico Come ci difende Meno male che l'abbiamo domesticato E che ci difende Facciamoli fuori i verdi I verdi che hanno provato ad attaccarci E a distruggerci Facciamoli fuori Sono appena spuntati Nella terra ci stanno già provando a sterminare È un mondo in cui tu non puoi fare pace amore Vedi Guarda Guarda come li sterminiamo adesso Che cavolo fate Cioè ci stavano bruciando le capanne Ci vogliono distruggere le capanne Come vi siete permessi Dovete morire tutti Adesso io te lo dico Io li volevo lasciare in pace Ma noi adesso prendiamo E distruggiamo il loro villaggio E ci mettiamo il gonnellino da combattimento finalmente No Sì Il gonnellino da combattimento Non c'è il tempo E diventiamo dei combattenti Mi sa che abbiamo proprio perso Perché Ormai abbiamo Il capo è morto Ne sono rimasti soltanto due nostri E credo che siano morti Sì Sì Abbiamo sterminato gli sterenichi Vedi Vedi Colpa tua No Allora Allora Sì Prova a parlare Guarda Ti tiro una torcia in faccia Abbiamo provato a fare la guerra Come dicevi tu Perché non li hai preparati per la guerra Se tu compri solo capanne Di strumenti musicali Come pensi che se avessero combattere Abbiamo perso tutte le capanne Cioè Abbiamo riniziato da zero Non ci credo Non ci posso credere Non abbiamo più neanche il nostro alleatino Questo è solo perché mi hai fatto fare la guerra La pace e l'amore stava funzionando Eravamo migliori amici di viola Ma ci hanno attaccato in due Ci hanno attaccato in due Ci fermiamo così per questo video È carinissima questa parte del gioco Mi piace tantissimo Decisamente Inizia a essere più complicato Sì E poi ci sono tante cose che possiamo fare Dobbiamo capire Ci dovete Allora per chi è esperto del gioco Ci dovete spiegare come funziona con gli animali Perché noi l'abbiamo domesticato Però diciamo che ci difendeva e basta Non ci portava del cibo Quindi magari c'è qualcosa Che non stiamo ancora capendo Magari lo dobbiamo mandare noi a raccogliere cibo Non lo so Non ci abbiamo provato in questo In effetti magari mandarlo a raccogliere cibo Potrebbe funzionare Prima di finire il video Andiamo ovviamente a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Giovanni Web Sans The Skeleton Flower 004 Greta Laura E The Tiger Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Vi è uscito così Se vi è riuscito a lasciare un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao